Prima linea è offerto da Farinelli Fresco Market, piccoli, sinceri e convenienti. La divisa è un aspetto della mia vita che ho incontrato relativamente da grande, perché quando ero ragazzo non avevo idea un giorno di poter indossare una divisa. L'incontro è stato casuale perché nel 2005 ho deciso di partecipare a un concorso ad Alghero per agente di polizia municipale e quindi diciamo che la divisa si è materializzata in quella situazione, in quel contesto particolare. Una divisa di un corpo di polizia locale e quindi una divisa inserita all'interno di un contesto comunale e quindi l'ho conosciuta per caso, diciamo che non era né un'aspirazione né una mia idea, è semplicemente un caso, il caso ha voluto che indossassi la divisa. Cosa hai provato la prima volta che l'hai indossata? La prima volta che l'ho indossata ho provato un po' di imbarazzo, appunto perché non ero abituato alla divisa. Ho cercato di indossarla e di portarla in qualche modo prendendo spunto dai colleghi più anziani del comando, che la portavano da tanti anni, di colleghi e colleghe che la portavano con molta disinvoltura, con molto orgoglio e soprattutto con molta partecipazione e quindi ho partecipato alle prime cerimonie ufficiali del comune di Alghero e questa cosa mi è servita per smollare un po' quella che era la tensione iniziale della divisa. Cosa voleva dire per lei essere un tutore dell'ordine proprio nella sua città? Tutore dell'ordine nella mia città è un compito che inizialmente, diciamo, nei primi momenti in cui indossi la divisa ti sembra e credi di poter cambiare il mondo, cioè di essere lì per una missione particolare perché comunque tutto quello che tu avevi visto nella tua città di cose che non ti piacevano, comunque di situazioni per certi versi non definite, avevi la possibilità in quel momento di portarle a termine, di compiere quello che era il tuo lavoro, il tuo dovere di agente di polizia locale, poliziotto locale. Poi questa cosa si è stemperata col passare del tempo perché ha la passione, all'istintività iniziale, si sostituisce la razionalità, il conoscere la realtà, quindi il rapportarsi con i cittadini, una visione sociale e non più solo, diciamo, di giustizia e quindi tutte queste componenti unite a quelle che erano e sono le esigenze dell'amministrazione compi il tuo lavoro, insomma. Cosa l'ha portato a cambiare la sua vita andando ad Arzachena? Mi ha portato il desiderio di evolvermi nel lavoro e di provare una chance che fosse, come dire, una chance diversa rispetto al ruolo di tutti i giorni e quindi dell'operatività su strada. Mi si è aperta questa grande opportunità di fare un concorso come comandante della polizia locale e ho partecipato, devo dire, senza, come dire, la minima idea poi di riuscire ad arrivare dove sono arrivato, però devo dire che questa cosa mi ha riempito e mi riempie di grandi soddisfazioni. Questo cambiamento di vita da Alghero da Arzachena, quanto l'è costato in termini di vita e di rapporti? Questa è una bella domanda. In termini di vita mi è costato un po', mi è costato un po' perché comunque sono passato da una realtà come Alghero dinamica, di città viva e un po' da spensieratezza algerese ad un ritorno un po' alle origini in un contesto più piccolo, in un contesto di paese con gli svantaggi e anche i vantaggi però di essere in un contesto più piccolo, cioè che sono quelli in pratica di rapportarti direttamente col cittadino e di risolvere i problemi che mano a mano, giorno per giorno, ti si presentano. Quindi diciamo che ci sono stati dal punto di vista della vita delle rinunce, dal punto di vista del lavoro attivo dei vantaggi, quindi le due cose poi alla fine si compensano, si sono compensate. Similitudini ma soprattutto differenze nel suo lavoro tra i due posti? Similitudini tante, similitudini sono che appunto siamo in una località di mare quindi non ho abbandonato il mare anche perché sarebbe stato come dire un trauma molto più pesante e quindi diciamo questa è la similitudine grande. L'altra grande similitudine con Alghero è la presenza turistica, la massiccia presenza turistica e quindi la difficoltà maggiore che è un contratto che si incontra qui dovuto al fatto che l'estensione del territorio è vastissima. Lei pensi che il territorio di Arzachena come territorio comunale è il secondo territorio più grande d'Italia dopo Roma quindi da Arzachena a Porto Cervo ci sono 20 chilometri per cui raggiungere insomma le varie località di Porto Cervo, Baglia Sardinia, Cannigione che rientrano nell'ambito comunale di Arzachena è molto difficile quindi bisogna anche contestualizzare poi gli interventi della polizia locale. Quindi devo dire le similitudini con Alghero sono queste quindi il mare, il tipo di movimento turistico e per certi versi l'organizzazione anche del comando perché Arzachena pur essendo più piccola ha appunto un'organizzazione sia numerica diciamo sia di mezzi in dotazione al comando che è molto molto più ampia rispetto a quello che normalmente ha un paese, una città di 13 mila abitanti. Che vantaggi sociali ha una persona nella sua posizione? Vantaggi sociali non so se siano vantaggi diciamo che hai la necessità di rapportarti con le persone spesso capita che molte persone ti conoscano, sanno quello che fai e quindi come dire l'attenzione è la sensibilità che tu devi avere nei confronti della cittadinanza intera è diversa rispetto a uno che non ha un ruolo specifico, non ha responsabilità. Quindi mi sento molto partecipe diciamo della vita di Arzachena e cerco insomma nel limite del possibile di riuscire a colloquiare e a risolvere insomma le criticità che sono, che si presentano giorno per giorno soprattutto in questo periodo estivo. Abbiamo parlato dei vantaggi, quali sono invece le situazioni più pericolose che lei ha dovuto affrontare quanto ad Alghero quanto ad Arzachena? Ma diciamo che situazioni pericolose, vere e proprie, per fortuna diciamo che la polizia locale non deve assolvere a compiti di ordine pubblico, o meglio non sono i compiti prioritari perché poi ci sono le forze di ordinamento statale, la polizia, i carabini e la guerra di finanza che hanno questo ruolo specifico. Noi comunque ci occupiamo di situazioni legate ad abusivismo commerciale piuttosto che a abbandono di rifiuti o comunque a situazioni legate alla viabilità stradale, quindi alla polizia stradale dove tutti i giorni potrebbe avvenire o entrare in contatto con situazioni poco piacevoli. Le situazioni diciamo più difficili che mi sono presentate sono appunto dovute a degli sconti, degli screzi durante dei posti di controllo, però poi per fortuna diciamo tutto è ritornato nell'alveo della normalità. Quali invece quelle più divertenti o più simpatiche? Magari c'è stato un momento che un cittadino ha avuto qualcosa? Divertenti e simpatiche mi è successo quando facevo il servizio ad Alghero nel 2012, 2012 o 2013, forse 2013 quando fermammo con una collega una macchina perché proveniva in senso contrario al senso di marcia e ci siamo accorti che dopo averlo fermato la persona che guidava era completamente nuda quindi come dire questo aspetto si è rivelato tragicomico perché oltre al fatto della comicità legato alla nudità questo era particolarmente ubriaco quindi l'abbiamo anche sottoposto alla prova dell'etilometro e purtroppo gli abbiamo dovuto ritirare la patente. Ecco questo è stato come dire l'episodio più simpatico che mi è capitato in questi anni. A cosa ha dovuto rinunciare per la sua carriera? Ho dovuto rinunciare, la famiglia è stata la cosa a cui uno rinuncia come dire quando decide di allontanarsi però per fortuna non si tratta di una rinuncia totale perché poi non ho deciso di andare lontanissimo quindi io periodicamente rientro nella mia città e quindi soprattutto d'inverno ho la possibilità di rientrare tutti i fini di settimana quindi diciamo che rinunce grosse non ce ne sono state. Poi ripeto da Alghero sono finito in Costa Smeralda quindi come dire come salto ritengo di essere stato fortunato probabilmente avrei avuto molti più problemi se fossi dovuto andare in qualche zona diciamo della Sardegna centrale dove probabilmente mi sarei sentito più isolato ma non è certamente il caso insomma del contesto in cui vivo attualmente. Cosa significa per lei essere un uomo in prima linea? Significa giorno per giorno doversi alzare la mattina per andare a lavorare e credere ogni giorno di dover dare di dover offrire un contributo per cui la gente si aspetta sempre qualcosa da te quindi essere in prima linea significa non dover mai cedere non dover mai compiere dei passi indietro ma affrontare le situazioni giorno per giorno. Io ogni giorno nei periodi diciamo di maggior lavoro come questi di questo periodo lavoro tanto lavoro tanto insomma contatti sia con la cittadinanza sia con la parte amministrativa e politica della città sia soprattutto nella gestione del comando perché ho un corpo di polizia locale di 18 uomini a cui si aggiungono 13 operatori di polizia locale stagionali quindi come dire le cose da fare ci sono tutti i giorni quindi essere in prima linea significa proprio questo essere sempre all'altezza di poter sostenere carichi di lavoro e situazioni nelle quali spesso non programmi ma come dire le affronti momento per momento. iscriviti al canale! iscriviti al canale! grazie!